E quindi stiamo vedendo che sono tanti gli ordini e i movimenti che animano la Chiesa. Non può mancare l'incontro con i carmelitani scalzi perché abbiamo un ospite d'eccezione, un caro amico che finalmente è tornato su Padre Pio TV, lo abbiamo in collegamento Skype, e frate Ezio Battaglia. Bentrovato frate Ezio! Bentrovato! Ci manchi tanto, a me particolarmente manchi tanto, però insomma sia modo di vederti, di seguirti perché sei anche altrove, quindi con i tuoi super consigli che ovviamente noi conosciamo bene ma che invitiamo tutti a visitare il sito dell'antica Farmacia Sant'Anna, però ne parliamo magari al termine, perché oggi la puntata è dedicata a questi ordini che animano la Chiesa. Carmelitani scalzi, vogliamo partire un po' dalle origini, frate Ezio, raccontaci un po'. Certamente, a differenza degli altri ordini religiosi, Domenicani San Domenico, Francescani San Francesco, il nostro nome deriva da un luogo, da un monte, il Monte Carmelo, che si trova in Palestina. Intorno al 1200 un gruppo di, diciamo, persone che hanno seguito i crociati, ma erano pellegrini, si sono riuniti sul Monte Carmelo dando vita al primo nucleo dell'ordine dei Carmelitani scalzi. Questo attorno al 1200. Qualche anno dopo, Sant'Alberto di Gerusalemme scrisse una regola e chiamò, appunto, questi frati, i fratelli scazzi della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Lì c'erano tante guerre, le guerre sante, eccetera, quindi non resistettero a lungo. Dovettero rientrare nei propri paesi di origine, chi in Italia, chi in Francia, chi in Spagna. E quindi un gruppo di pellegrini che erano abituati a una vita, diciamo, su un monte da soli, si sono ritrovati poi nelle varie città e quindi hanno avuto qualche problema. E nel 1500 Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce hanno riformato i Carmelitani e quindi si sono creati due rami. Abbiamo l'antica osservanza, che sono i frati che ancora fanno riferimento alla regola dei frati sul Monte Carmelo, cosa che facciamo riferimento anche noi, e i Carmelitani scalzi. Ci chiamiamo Carmelitani scalzi nel senso di Carmelitani riformati, della nuova osservanza, riformati da Santa Teresa e San Giovanni della Croce. Non ha niente a vedere sulle calze, sulle scarpe che noi portiamo. Ti devo dire la verità, io mi diverto tantissimo quando dico sono frate Carmelitano scalzo, tutti proprio di default guardano i tuoi piedi perché pensano che sei scalzo. Invece scalzo è riformato, della riforma di Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce. Ecco, ci voleva questo chiarimento, perché poi la curiosità è forte, no? Come mai si chiamano così? Tu, insomma, l'hai chiarito bene, hanno tutte le scarpe. Hanno tutte le scarpe. Il vostro carisma invece... Non c'è nessun vincolo sui calzari, sulle calze o sulle scarpe, ecco. Dopo la riforma Carmelitana, il primo convento fuori dalla Spagna, fu proprio qui il convento di Sant'Anna. Questo ci tengo a dirlo perché è una cosa di importanza storica. Per quanto riguarda il carisma, diciamo che ogni ordine religioso ha il suo carisma e dobbiamo però anche dire che certi carismi si, diciamo, compenetrano. Quindi non è che i nostri carismi sono esclusivamente nostri. Diciamo che l'insieme dei carismi sono specifici dell'ordine carmelitano. Allora, quali sono i nostri carismi? Intanto, vivere nello secchio di Gesù Cristo è un atteggiamento contemplativo. Questo valeva ovviamente per i primi monaci sul Monte Carmelo, ma vale ancora per noi oggi. Anche se ovviamente nella città, nei vari pastorali che fai, devi proprio cercare di riuscire a farlo. E quello che ci contraddistingue sono due ore di orazione mentale in silenzio che ci danno anche questa orazione contemplativa. Tutto questo poi consegue gli altri punti del carisma, quindi la promozione della vita spirituale, quindi la direzione spirituale, la confezione, scuole di preghiera, esercizi spirituali, proprio per trasmettere agli altri la nostra particolarità di comunione con Dio. Tutto questo non è solitario, ma è vissuto in una comunità. Quindi la vita fraterna in comunità, preghiera, pasti, è anche ricreazione comune. Dopo i pasti noi abbiamo un momento di ricreazione comune, dove ridiamo, scherziamo, ci raccontiamo le nostre cose ed fa parte proprio del nostro carisma. La preghiera, ovviamente, le due ore di orazione mentale sono secondo lo spirito teresiano e Santa Teresa nei suoi scritti scrive una cosa molto bella. La preghiera è un'intrattenersi da soli a soli con colui da cui sappiamo essere amati. Quindi la preghiera parte tutto da questo. La Santa Madre Santa Teresa consiglia anche di utilizzare magari un'immagine per poter in qualche modo umanizzare la nostra preghiera. Lei usava un Cristo flagellato alla colonna, però possiamo usare anche altre immagini. Chiede anche magari di leggere un brano della Sacra Scrittura o un testo che può essere utile per noi. Ovviamente l'ora non può passare semplicemente facendo queste cose, ma può essere un inizio per poi sviluppare la nostra preghiera in comunione con Dio. E la cosa bella è che è un'orazione personale con Dio, ma tutti insieme. Ci troviamo nella stessa cappella, tutti insieme in silenzio e ognuno prega il Signore come decide. Ovviamente è il modello di questa... Sì, scusami, scusami, ti ho interrotto. Sicuramente chi ci segue o comunque chi è un po' più attento immagina una comunità religiosa un po' chiusa in se stessa. In realtà voi vivete nel mondo, vivete nella diocesi. Siete comunque un ordine vivo anche per via delle attività che poi parallelamente portate avanti. Quindi questo è un mito da sfatare. Dipende da comunità a comunità. Ci sono comunità anche molto ampie, come la nostra, che sono dei 12 ai 15 religiosi. Purtroppo la carenza di vocazioni, anche se dobbiamo ringraziare Dio perché qualche religioso ogni anno arriva, qualche vocazione. Abbiamo delle comunità di tre persone, quindi ovviamente l'aiuto in diocesi può essere più o meno vivo a seconda anche del numero di persone. Addirittura abbiamo la nostra antica erboristeria dove accogliamo le persone. Questo è un luogo di incontro molto importante perché pastoralmente vengono persone che magari mai andrebbero in una chiesa a parlare con un frate, con un sacerdote, arrivano magari con un problema di salute, poi magari vedono un frate e si aprono, parlano, eccetera. Ed è spesso un'occasione di incontro. Quindi diciamo anche già all'interno arriva molta gente proprio per le nostre attività. E poi ovviamente siamo aperti all'esterno, quindi facciamo attività. Ricordiamoci che le attività sono sempre, o dovrebbero essere sempre concertate insieme con la comunità, con il priore, perché non è una cosa personale, è una cosa comunitaria. Certo, se io vado a celebrare la messa in una parrocchia, ci vado io, però la comunità mi supporta, la comunità eventualmente fa quello che avrei dovuto fare io nella comunità, perché abbiamo tutti i lavori, dalla pulizia al giardino, a tante cose. Però sì, siamo aperti e diciamo che è un mito da asfatare, ma chi è qui attorno a noi l'ho già asfatato, perché ha visto come ci muoviamo, cosa facciamo, quindi abbiamo molte persone che ci seguono. E' questo proprio il senso della fraternità. Fratezio, due minuti per dirci anche un po' dell'antica farmacia Sant'Anna, perché tu non sei soltanto un frate, ma sei anche erborista. Noi ci teniamo ai famosi rimedi naturali, c'è persino, se andate a visitare il sito dell'antica farmacia Sant'Anna, c'è persino un vademecum da seguire per raggiungere il benessere, non solo fisico, ma anche mentale. In questo periodo ne abbiamo tutti un po' bisogno, non so voi, fratezio. Quindi, insomma... No, no, è stata una grande richiesta. Allora, fin dall'apertura del convento nel 1600, abbiamo questa antica erboristeria, che di fatto adesso è una farmacia a tutti gli effetti, l'unica farmacia ancora gestita da frati, in cui accogliamo le persone, quindi non semplicemente diamo i rimedi che prepariamo noi a base di antiche ricette, abbiamo proprio i laboratori, ma soprattutto accogliamo e ascoltiamo. Ci sono alcuni giorni della settimana dove accolgo le persone, che a volte parlano, parlano anche per mezz'ora, poi a volte dicono, sa padre, sto già meglio solo per aver potuto parlare o per essere stato in quest'oasi. Chi arriva qui per la prima volta e abita a Genova rimane colpito, perché è un posto un po' fuori dal mondo, pur essendo nel centro di Genova, abbiamo giardini, eccetera. E quindi, diciamo, l'erboristeria non vista soltanto come un posto dove si propongono rimedi, ma come dicevi tu nel Vademecum, che trovate sul nostro sito, erboristeriadeifrati.it, si parla di salute dello spirito, che per noi è molto importante, del corpo e della mente. Quindi, e questo dal 1600, abbiamo proprio dei manoscritti in cui si parla di questa attenzione completa. Oggi se ne parla tanto, nel 1500 se ne parlavamo un po' meno, almeno in Occidente. Quindi questa è un'attività molto importante che, diciamo, di cui sono responsabile. I miei confratelli ovviamente vengono ad aiutare, perché c'è sempre un sacco di cose da fare per le preparazioni. E quindi questa è una realtà molto bella, che si inserisce in questa comunità. Ecco, frate Ezio, ovviamente tutte le informazioni le potete trovare sul web, al sito che vi ha indicato, ma tu hai anche uno sportello aperto, addirittura con videochiamate ti possono contattare, per chi ha problemi. È vero. L'aggiornamento è fantastico. Questo è un problema del Covid, sul sito trovate un numero di telefono dove si può telefonare, ma anche videochiamare. A volte potersi vedere è importante. E adesso col Covid che ci si sposta poco, effettivamente molte persone utilizzano questo canale per poter parlare con me faccia a faccia senza dover venire, magari da... perché una volta venivano dal Piemonte, dalla Val d'Aosta, dalla Lombardia, adesso ci sono delle restrizioni e quindi questa è una cosa molto importante. Abbiamo cercato di usare la tecnologia a favore anche di tutti. Nel miglior modo possibile, fratezio. Noi non avevamo dubbi. Ricordo anche il motto in questo caso dell'erboristeria. Noi prepariamo le medicine e Dio ci dà la salute. Fratezio, un carissimo amico che è tornato. Speriamo di ritrovarci presto, magari ecco, di far visita, sperando che insomma i tempi migliorino per tutti, anche fisicamente, non soltanto digitalmente. Fratezio, grazie di cuore per questa presentazione breve. Grazie a voi, buona proseguzione. Niente, siamo qua. Ci vediamo. Ci vediamo presto. Ci vediamo. Un caro abbraccio a te e a tutti i confratelli. Ciao, ciao. Noi continuiamo subito dopo una breve pausa. Ciao.